Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Un po' di titoli, dai più svariati, anche diversi tra loro, parliamo dei Life is Strange, ma soprattutto Vampyr, da cui comunque, diciamo, questo si ispira e sembra essere il suo erede spirituale. Io Vampyr lo avevo finito, mi era piaciuto anche parecchio, per quanto, appunto, come in questo gioco, il combattimento non è il punto forte. Molto in sintesi, noi siamo una coppia di banishers, quindi questi tizi che mandano via gli spiriti, diciamo, danno loro un degno riposo agli spiriti. Quello che succede è che io, adesso siamo nei panni di lui, lei muore in uno scontro con un fantasma, non è un grande spoiler, ma in sintesi, lei però torna come fantasma. E da quello che ho capito dall'inizio della storia, i fantasmi non possono rimanere troppo qui vivi. Quindi lei ci darà una mano, ma noi potremmo poi, nel corso dell'avventura, andando a compiere le varie missioni, potremmo andare a scegliere se le anime le liberiamo, oppure incatenarle per consentire a lei, con un rituale difficile, di tornare in vita. E quindi saremo di fronte a una scelta morale, sacrificare un'anima di una persona, sacrificarla per i nostri interessi personali, quindi far tornare la nostra donna, oppure liberarli e quindi concedergli, insomma, il meritato riposo, ma al prezzo di non poter salvare lei. Insomma, ci sono tante scelte che si possono fare nel gioco e come vedete qui c'è anche un'evoluzione che poi si amplierà, dove potremo aumentare le abilità del nostro personaggio. Il nostro personaggio che ha anche la possibilità di equipaggiare diversi completi che troveremo in giro, ma al tempo stesso anche di andare a migliorarlo spendendo oggetti e risorse. Il gioco è fatto a combattimenti e investigazioni. Noi siamo Red, appunto, non mi ricordavo il nome, e abbiamo anche tante cose da ispezionare e su cui investigare. E qua stiamo trovando note di un demonologo, noi non siamo demonologi, però. E vedi... E qua stavano effettuando un rito, ma sembra che il corpo manchi, preso forse dai lupi. Lei è Antea, feriamo la mano, che resta comunque con noi in modo abbastanza inusuale per poter completare questa indagine, perché noi siamo arrivati nel... siamo nel 1600, fine del 1600, siamo arrivati in America, e questo villaggio era sottoposto a una forza oscura, e noi siamo arrivati per aiutarlo. Ma chi ci attendeva era morto. E quindi il primo caso di gioco che svolgiamo è, appunto, dare pace all'anima di questo nostro amico che ci parla, dice, no, resto con voi, vi do una mano. Noi diciamo, no, non si può, e liberiamo. Premi e per rimuovere le telespettrali e rivelare oggetti e luoghi celati. Ok, qua iniziamo a... Sarà un gioco molto, molto investigativo, la durata è tra le 20 e le 30 ore. Ma quello che vorrei chiarirvi in questo video è farvi vedere un pochino com'è il combattimento. Perché? Perché il combattimento... L'ho visto nelle recensioni, l'ho visto nei video di chi ha giocato, e tutti hanno detto, eh, è un po' la parte più debole del gioco. E io mi sono detto, ma, scusa, magari a me piace, e lo voglio provare. E in effetti devo dire che concordo un pochino con loro, ma ve lo farò vedere. Allora, in quanto Fantasma Antia può rivelare e interagire con gli elementi spettrali nascosti, quindi dovremo alternarli. Quindi premendo Q noi possiamo vedere quello che vede lei. Infatti qua vediamo qualcosa, che lui non vede, vedete? E troviamo una cassa. Che poi lui, interagendo nel mondo reale, può vedere. Abbiamo recuperato polvere spettrale. Premendo, tenendo il premuto alla E, possiamo scavalcare o passare attraverso le cose. Allora, dicevo, il combattimento ve lo farò vedere in prima persona, adesso probabilmente si combatterà. Gli ambienti sono bellissimi, per quanto le cascate non siano così definite. Comunque, andiamo. Il combattimento ho dovuto combattere con un boss, che è il primo boss. Non era un... Allora, perché con il tasto spazio io gioco con la tastiera. Premendolo una volta fa questo movimento. Due volte fa la rotolata. Probabilmente col pad è molto più comodo. Comunque, non c'è una gran interazione, diciamo, a livello di colpi. Nel senso che non vedete una gran reazione ai colpi del nemico. E quindi questo, confermo, è la parte più debole. In basso a sinistra vedete la vita e quella barra arancione è la barra che quando si carica al massimo potete epurare lo spirito che vi sta attaccando. Vedete quella linea rossa che c'è in basso a sinistra alle nostre spalle? Quella lì significa che quando noi non stiamo guardando un nemico praticamente ci dice se è bianca c'è un nemico lì. Se è rossa c'è un nemico lì che ti sta attaccando e sta per arrivare. Allora, te è in combattimento. Possiamo dare i pugni con lei. Ok. E attacca anche lei. Possiamo usare anche lei. Lei non l'avevo mai usata, vi dico la verità, perché ho giocato un po'. Più di un'oretta. E ho detto, voglio... Ah, adesso siamo tornati con lui, perché possiamo usare solo lei in un momento definito. Vedete che adesso abbiamo quasi caricato al massimo la barra arancione. La possiamo usare, ma abbiamo abbattuto il nemico, quindi... Perché comunque lei sa bene che non può rimanere in quanto spirito. E sono le regole. Le regole, perché lei ha studiato comunque tanto. Lui invece era il suo apprendista, quindi lui si ritrova vivo, ancora vivo. Lei no. Ma cercherà di aiutarlo, perché lui comunque essendo apprendista ne sapeva molto meno di lei. Aveva studiato molto meno di lei. Quindi le illuminazioni sono molto belle. Anche le uci che entrano sono fatte bene. E adesso non è un open world, ve lo dico già, perché comunque ci saranno delle zone in cui potete comunque tornare, ma punti di interesse. Ci saranno tante missioni secondarie. E come lui era su Vampyr, ed è per questo che si definisce questo un'erede spirituale, ci saranno tanti dilemmi etici. Vediamo se lei vede qualcosa che lui non ha, però scala lui comunque ovviamente, perché tutta la parte fisica la fa lui. Continuo a sbagliare tasto, perché vado sempre al menu, voglio vedere con lei se c'è qualcosa. Di Vampyr mi piaceva l'aspetto dei vampiri e la città, comunque tutta esplorabile, con tutti i misteri. Questo è simile, ma non nello stesso gioco. Qui c'è qualcosa. Fammi vedere con lei se c'è qualcosa. Ah, qua c'è da prendere qualcosa. Cuoio. Ma lei vede qualcosa? E continuo a sbagliare? No, non c'è niente. Con lei non vedo niente. Andiamo avanti. Quello spettro è diretto verso il cadavere. Quindi? Gli spettri potrebbero tentare di possedere i cadaveri. Può interrompere una possessione attaccando lo spettro prima che raggiunga il cadavere. Ok, questo l'abbiamo fatto. Adesso potrei usare l'abilità di depurazione. Quella che ho caricato prima, visto che è tornato lì. Il cadavere tra l'altro non l'ho visto. Non è ancora finita. Attacco con lui. Infatti è uscito l'altro tipo di spirito. Faccio attaccare lei. Ok. Mamma mia, no. Via, 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 via. Abbiamo le cure. E poi ci sono i, li definisco un po' i falò, comunque gli accampamenti in cui possiamo andare a potenziare gli oggetti. Possiamo ricaricarci le piaschette. Possiamo craftare roba. Ok. E? Va bene, andiamo avanti. Perché questi qui stavano cercando di... Ma il fatto che lo trovo abbastanza legnoso il combattimento potrebbe rendere ostico la cosa sulle boss fight. Invecezioni, vabbè, coniglio, niente. Dovrà recuperare quel corpo di quella... Cerca dei segni di vita. L'attrezzatore da caccia, forse i cacciatori, sono nelle vicinanze. Lei l'aveva già vista qui. L'attrezzatore da caccia. Il gioco comunque non costa poco. A parte che forse lo trovate sui 30€ su Instant, ma di base costa 49,99€. I Don't Nod sono comunque una garanzia, cioè non è un gioco... L'opinione generale che gira è... Mi aspettavo fosse bello, ma un gioco magari da 7, ma non mi aspettavo fosse così bello. Ecco, il giudizio più o meno generale è questo. È stata una delle sorprese di febbraio. Poi resta comunque, secondo me, un gioco non per tutti, perché comunque non tutti amano un gioco vecchio stile. Perché qua parliamo di vecchio stile. Avete amato Gridfall? Questo è molto più profondo. Per quanto Gridfall fosse molto profondo a livello di lore, a livello di storie, di scelte multiple, ma qua c'è una cura maggiore dei dettagli. Qua vedete premo E e mi passa così. Si sale di là. Recupero sempre questo, che sono la pirite, che sono cose che mi servono per attivare dei rituali. Vediamo se lei vede qualcosa che io non vedo, no? Andiamo su. Poi c'è tutto il dialoghi da legge. Adesso adesso... Credo di vedere in modo da attraversare laggiù. Lo vedo anche un po' come un viaggio. Nel senso che comunque avete delle location bellissime, che esplorate man mano e che vedete passarvi sotto i piedi. Al momento non possiede la manifestazione necessaria per sbloccare questo sentiero. Se i minostaccoli vengono contrassegnati sull'automappo bussola così da potervi tornare in seguito per svelare i loro segreti. Ok, ma parla di quale, però, di preciso? Questo, ok, ed è insidiosa. Quando abbiamo la manifestazione richiesta, potremo passare attraverso quel percorso lì, faremo un po' di backtracking e andremo a vedere che cosa c'è di là. Probabilmente qualche oggetto, qualche equipaggiamento. Raggiungi il ponte. Ma si vedeva già da là, che era fuoriuso. C'è uno schema, lo vedi? Mi sta chiamando. Scendi nella valle. E' troppo alto. Ispezione. E se scendessi con lei? No. No, non posso scendere da qua. Non so, vabbè, come scendere. Che si scende di qua. E infatti. E... Mi chiamano anche se ero disgustata. Si può passare di qua o salire addirittura? Può vedere? Sì, forse si scende di qua. Ah, un combattimento. Sì, non è niente di... Cioè, non è, diciamo, il combattimento dinamico più bello del mondo, ecco. Ma come d'altronde non lo ero in Vampire? In Vampire io ho patito tantissimo i combattimenti. C'è qualcuno all'interno. Qualcuno di corrotto. E ripeto, perché deve essere il punto focale di questo titolo, le scelte multiple, le scelte morali, che faremo e che cambieranno, perché i finali di gioco, mi pare, siano cinque. Sei tornato. Pensavo fossi qualcun altro. Non so se vede lei. Lei ha detto che lui era corrotto. Sei gentile offrirlo, ma no, grazie. No, non la vedo, probabilmente. Hai venuto dal camp? Sei un hunter? Quale è? Red McCree. Sono un banisher. Come le storie. Io sono Jacob Lind. Sono un cacciatore di pellicce. Un lavoro vero. È un lavoro vero. E qua, sempre esausto. Dormi bene perché ci sono i sogni e c'è la lora dietro che all'inizio ci dicono che tutti sognano, fanno incubi. Perché c'è qualcosa di oscuro sul villaggio. Contaminato dai fantasmi e la corruzione, infestato, parlami dei tuoi incubi. È solo sempre lo stesso. Lo fa anche Ben. Chi è Ben? Perché quelli con la bandierina poi portano avanti la storia, la conversazione. Il migliore di tutti, mi ha insegnato tutto ciò che so. Ora è uscito a caccia, ma tornerà. Il ponte è fuori uso. La cosa che devo ancora capire a livello di lore è se solo noi vediamo i fantasmi perché siamo i puratori o meno. Certo è che la vittima che noi abbiamo esaminato all'inizio del gioco, che non avete visto, la parte del prologo, ha ucciso appunto, al fine è stato ucciso da un fantasma. Cosa si annida nell'oscurità? Nella nebbia non si può calciare, non si vede nulla. Meglio attiratore. Ok, come hai conosciuto ben. Ci siamo... Mando avanti, un po' veloce. Scusate. Per te. La tellina è lo spirito. E' importante per te. Sì, io per lui. Ha perso la testa. Ho un fantasma lì l'ha portata via. Ok. Oddio. Ok. Questo ha qualcosa che non va. E' volto dalle tracce spettrali. Lei lo vede. E' avviato il tuo primo caso di infestazione. Dovrai indagare sul fantasma che perseguita Jacob Linde. Usa scorciatore e notifico e apre il caso di infestazione. Ok. Praticamente questo vi faccio vedere che è una delle meccaniche di gioco. Dove possiamo vedere. Allora, intanto posso leggere il libro. Ok. No, la Genesi. Dopo che me le ische non le ische ma il tasto destro. Ispeziono. Ben dorme qui, io non dormo. Lui è completamente piegato. Ci sono dei vermi nel letto. Ok. Allora, praticamente vedete qui c'è i casi di infestazione e sono i vari casi che poi si apriranno nelle varie regioni. Qua abbiamo fatto il primo caso con loro e vi dico anche che è una cosa bella di questo gioco che voi vedete questi due nomi ma io questi due nomi qui me li ricordo bene. Mi ricordo bene la personalità soprattutto di lei perché è la vedova che conosceremo inizio gioco ma anche di lui perché mi ricordo cioè sono fatti bene a livello facciale a livello di caratterizzazione e me le ricordo bene mi ricordo poi il caso qua invece stiamo andando a esaminare questo caso di infestazione quindi dovremo accumulare indizi su quello che è successo e andare avanti e cercare di capire che cosa sta infestando. La carne sta andando a male lui ci parlava anche lui in uno stufato anacquato lui potrebbe essere ampiamente potrebbe essere veramente piegato a non so quale spirito e Ben potrebbe essere morto e potrebbe essere tornato come fantasma infatti Ben è uscito senza pistola e lui ci dice che è uscito con le trappole non armi da fuoco ok segui l'indagine nel menu si stavo già facendo no? Infestazione caso segui F ok seguito trova Benedict Stoughton e qua vedete che poi iniziamo ad investigare in questa zona cercando indizi è un gioco che vi chiudete vi immergete nell'atmosfera nei suoni e ve lo godete questo secondo me è il segreto per godersi Banisher magari non è un gioco da 9 non da 7 da 8 8 e mezzo dipende un po' da quanto vi è piaciuto Vampyr da quanto vi piacciono i giochi di questo tipo che fondamentalmente forse è stato abbandonato forse è sempre forse è stato abbandonato o forse è sempre stato solo adesso che ci penso magari l'amico non è mai esistito c'è solo un letto lì dentro e lui non dorme mi viene il dubbio poi sono cose che comunque la storia ci porta a risolvere quindi però alla fine ci sarà una scelta multipla da fare in base a se tenere o meno cioè la base vogliamo fare i buoni e liberare le anime e dare loro la giusta liberazione o incatenarle per riportare in vita lei che al momento ci sta ancora aiutando ma che dovrebbe essere rilasciata un giorno perché lei all'inizio del gioco ci dice ok io posso essere riportata in vita ma è un rituale difficilissimo per te che sei un apprendista ma poi so bene che non è giusto e poi noi faremo la nostra scelta dipende che cosa decideremo di fare 5 finali fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo se lo avete già giocato o se dopo aver visto questo video magari siete più o meno ispirati ad acquistarlo scrivetelo sotto nei commenti alla prossima e ciao ciao